Abilitare i pagamenti online con Intesa San Paolo Se non riesci a pagare online con il tuo bancomat, con la carta legata al conto vai su Google e digita il mio nome e cognome mi chiamo Ciro di nome e muto di cognome una volta all'interno del mio sito con il pulsante di ricerca se entri nella sezione finanza del blog trovi la guida di riferimento che ti spiega come abilitare i pagamenti online se sei un correntista intesa Ciao